Onorevole Salini, il panorama europeo relativo alla mobilità sta cambiando. Lo scenario è in piena evoluzione, quello che sembrava sicuro a inizio anno, a fine 2022, adesso non lo è più. Sì, abbiamo tentato in tutti i modi di segnalare che per costruire una mobilità sostenibile ci vogliono tanti piccoli mattoncini perché la cattedrale risulti completa. Il primo mattoncino è considerare tutto il lavoro che è stato fatto per rendere sostenibile ciò che già abbiamo a nostra disposizione e che soprattutto può essere pagato dalle tasche dei cittadini. Quindi il motore a combustione interna non è un motore inquinante come in passato. Con le nuove tecnologie, con i nuovi motori, con i nuovi carburanti si può avere un approccio profondamente sostenibile, neutrale senza sradicare la vita dei cittadini. Considerando anche l'elettrico ovviamente. L'elettrico è una parte delle tante soluzioni che abbiamo costruito. Non è certamente una soluzione contro la quale ci opponiamo. Noi ci opponiamo a chi ci dice che c'è un solo modo, che c'è una sola soluzione tecnologica, che c'è solo un modello da seguire. Quando la politica ti impone il modello oltre agli obiettivi diventa un po' pericolosa. Lasciando da parte il periodo della pandemia, perché però ha inciso, faccio sempre questa domanda io ultimamente. Ma perché solo adesso, a parte la politica, anche dal settore, da altre voci, si levano così dei timori, delle perplessità? Fino a due anni fa sembrava che andasse tutto bene, fino a quando c'è il momento in cui la Commissione Europea ha varato questo, per la mia parere, arrogante piano Fit for 55. Si è deciso, più ci si è avvicinati alla scadenza delle istituzioni, quindi in 2024, quindi con la scadenza che condurrà alle elezioni per il Parlamento, ma anche al rinnovo della Commissione, c'è stato un crescendo di messaggi particolarmente muscolari. Chi ha deciso di diventare muscolare raccontando una realtà che non esiste e che dovrebbe esistere perché è meglio di quella attuale, è chi invece ha deciso, come noi stiamo tentando di fare, di fare appello, magari anche in modo più vocale, al buon senso. Cioè a quella modalità non troppo prudente, ma certamente molto più realistica, secondo la quale, partendo dal basso verso l'anto, si ottiene quello che sembra che qualcuno in Commissione abbia dimenticato. Cioè che senza bisogno dei target di Timmermans e di nessun altro, nel tempo l'Unione Europea è diventata il continente più sostenibile al mondo. Badate che rinunciare al modello che ha portato al continente più sostenibile al mondo non è esattamente l'approccio più intelligente. Infatti, e le case automobilistiche intanto in questo periodo hanno investito e stanno investendo miliardi su miliardi. Secondo lei, onorevole, è una mossa un po' azzardata, non hanno pazientato, non hanno riflettuto, hanno avuto timore di arrivare troppo tardi, hanno fatto una gara tra di loro? Ci sono due livelli, il primo è quello dell'industria nel suo complesso e il secondo livello è quello dell'ultimo anello della catena. Faccio un esempio molto pratico, non me ne vogliano le grandi case automobilistiche. La casa automobilistica si manifesta e si propone come totalmente favorevole all'obiettivo più ambizioso in termini di sostenibilità, l'elettrico, l'idrogeno eccetera. Poi c'è una filiera dietro, quelli che preparano, che realizzano i freni, gli iniettori, le pompe, i carburatori, tutti quelli che rendono possibile il prodotto che poi la casa automobilistica venderà, che la richiamano, suonano, alzano il telefono e dicono per realizzare il bellissimo obiettivo che hai dichiarato Urbi e Torbi, noi dobbiamo modificare radicalmente il processo produttivo. Allora ti suggeriamo noi qual è la modalità e qual è la tempistica, in modo tale che invece di andare a raccontare ambizioni che non paghi tu ma paghiamo noi, infine alla fine racconteremo un'ambizione complessiva che tiene conto di tutti i fattori, compresi i posti di lavoro di quella povera gente che tante volte è là e con 1.500 euro al mese deve fare di tutto perché quegli obiettivi siano realmente realizzabili. Alla politica l'orientamento, l'indirizzo e all'industria invece le decisioni, cioè la proposta delle strategie più consone. Esattamente, quella concretezza che abbiamo richiamato in quell'appello al buon senso che ripeto non è riduzione delle armi, ambizioni, ma è decisione di fare in modo che le ambizioni siano sulla terra e non nel mondo dei sogni.